Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news, nuovo video di aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. Oggi torniamo a parlare di Call of Duty Black Ops 3, il nuovo sparatutto in prima persona sviluppato dalla Treyarch in arrivo il prossimo 6 di novembre. La notizia arriva direttamente dal rivenditore GameStop, il noto rivenditore di videogiochi, dalla sua pagina .com, quindi la versione americana. Praticamente è stata svelata l'edizione, la cover art, la box art della versione di Black Ops 3 Hardened Edition, che in italiano prende il nome di edizione esperto. Versione che vi ricordo contiene numerose cose come la scheda dei bozzetti grafici degli specialisti in edizione limitata, la mappa bonus Dejaunt per la modalità zombie, uno stealth book da collezione, contenuti bonus quindi con la personalizzazione dell'arma 115, l'altra personalizzazione cyborg e ovviamente la colonna sonora ufficiale di Call of Duty Black Ops 3. Queste nuove, o meglio questa edizione cover art della Hardened Edition sono simili ovviamente alla versione normale. Unica cosa, cambia ovviamente la scritta Hardened Edition nella parte bassa, mentre per quanto riguarda il personaggio che è stato sempre svelato fin dai primi minuti di Call of Duty Black Ops 3, non è intero, quindi non si vedono entrambe le armi, ma solamente una parte, quindi metà busto, la testa si è solamente la pistola del braccio destro. Ovviamente Call of Duty Black Ops 3 è la scritta Hardened Edition, sia per la versione Xbox One che la versione PlayStation 4. Fatemi sapere voi che versione avete prenotato e che versione avete intenzione di comprare e se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.